Hanno coltivato per mesi il sogno di una casa, l'hanno vista nascere mattone dopo mattone. Poi, all'improvviso, dopo aver pagato quote consistenti per quella villetta, hanno visto il sogno infrangersi, i lavori fermarsi. E l'assurda vicenda accaduta da alcuni cittadini, paternesi e nonna, rimasti intrappolati in una storia contorta e complicata nella quale rischiano di rimanere stritolati. Come raccontano i nostri microfoni, non hanno ancora una casa, doveva nascere nella cooperativa Città della Luna, nella zona di Scala Vecchia Alta. I lavori però, come detto, si sono fermati, hanno quindi perso i loro soldi. La banca, l'Unicredit filiale di Catania, non riesce a dare loro una soluzione che invece da cittadini meritano, lasciandoli in un limbo esasperante. Le istituzioni, manco a dirlo, di tutta la vicenda ne restano lontani. Si fa silenzio, dimenticando chi ha dei diritti da tutelare e da dover difendere. Cittadini beffati che chiedono oggi giustizia. Voi siete i residenti, anzi dovevate essere i residenti di questa cooperativa, invece che cosa è successo? Successo che praticamente noi abbiamo comprato su carta, diciamo il progetto quando ancora c'era un progetto su carta, abbiamo comprato questa quota, abbiamo cominciato a versare le nostre somme e fino a un certo punto si è bloccato il cantiere, è stato sequestrato. Successivamente al disequestro non si è ben capito il motivo perché si sono fermati i lavori e di conseguenza avete già visto in che condizioni sono gli immobili. Voi avete speso diversi soldi, migliaia di euro e non avete nulla? Assolutamente sì, purtroppo ci sono persone che hanno speso, a parte il sottoscritto, anche molto più di quello che erano messi nel compromesso o nel capitolato perché fondamentalmente hanno fatto delle opere extra. C'è una coppia di ragazzi che tra l'altro si doveva anche sposare che purtroppo ha dovuto posticipare per ben due volte il matrimonio perché giustamente non avendo l'immobile doveva andare a vivere e fondamentalmente non si è potuto sposare. Tra l'altro all'interno della casa c'erano anche immobili, cuscine e quant'altro che si sono totalmente rubati e di conseguenza hanno dovuto spendere gli altri soldi per arrivare a un'altra casa. Voi siete vittime di questo sistema, non avete una casa, avete speso dei soldi ma avete anche altri problemi? Uno dei problemi più importanti è che abbiamo firmato una fiduzione. Quindi persone oneste che danno dei soldi per acquistare un nuovo immobile rischiano adesso a causa di questo problema che è nato rischiamo anche di perdere quello che abbiamo di prima perché con la fiduzione la banca chiede... Intanto ci ha messo come cattivi pagatori quindi io non soltanto ho versato dei soldi per i quali sono stato truffato perché dal momento che la situazione si è bloccata e non ci sono risposte da nessuna parte è come se fosse stato truffato. Per di più è a rischio anche quello che ho di precedente perché con la fiduzione devo rispondere anche con gli altri beni. Voi siete stanchi di tutta questa vicenda e oggi volete soluzioni, basta aspettare. Ma ci mancherebbe, ma è diversi anni che siamo così in attesa ci rivolgiamo ad un avvocato, ci rivolgiamo alla banca la banca chiaramente vuole i suoi soldi e noi dopo averli versati non abbiamo niente e per di più dobbiamo dare conto ancora alla banca. Ora voglio dire, non so se è giusto premiare i disonesti e non le persone oneste cioè le cose al solito funzionano al contrario noi che abbiamo corrisposto dei soldi per avere una casa non abbiamo la casa, abbiamo perso i soldi e rischiamo anche di perdere quello che avevamo di prima voglio dire, dobbiamo diventare disonesti pure noi.